Allora, a seguito delle prime consultazioni, Mattarella, o meglio il ventriloco che muove e fa parlare Mattarella, si è finalmente espresso, dicendo cosa? Ma a grandi linee è quello che sapevamo già, cioè o si trova una nuova maggioranza o si torna al voto. Le opzioni rimaste sul tavolo, le principali, sono essenzialmente tre. La prima, il ritorno di un governo giallo-verde, è un'opzione che effettivamente non se n'è mai andata. La seconda, la nascita di un governo giallo-fucsia, cioè PD, Movimento 5 Stelle, liberi uguali. La terza, appunto, il ritorno al voto. Prima di analizzare queste tre opzioni, vi vorrei aprire una parentesi per suggerirvi di andare a vedere l'ultimo video di Francesco Amodeo che ripercorre un retroscena importantissimo che ha poi portato alla rottura dell'alleanza Movimento 5 Stelle-Lega e alla fine del governo giallo-verde. È molto importante perché ha a che vedere con la via della seta, con la tecnologia del 5G, con la questione dell'azienda Huawei, con le pressioni da parte di Washington. Insomma, è un modo veramente interessante di vedere le cose ancora più a 360 gradi. È importante, insomma, capire che parlare di TAV o di taglio dei parlamentari e pensare che queste siano le questioni che portano alla fine di un governo è veramente fuorviante. Qui, purtroppo, dico purtroppo, l'Italia è contesa da una parte dall'aquila americana e dall'altra dal dragone cinese. Come tante volte dico, spesso noi ci perdiamo tempo ad analizzare le pedine come se avessero una loro vita e un loro cervello invece di guardare le dita e le mani che le muovono. Quindi chiudo questa parentesi, vi invito caldamente a guardare l'ultimo video di Francesco Amodeo che proprio parla di questo retroscena importantissimo e ora analizziamo quelle che sono le tre opzioni rimaste sul tavolo. La prima, il ritorno del governo giallo-verde. Effettivamente questa ipotesi non se n'è mai andata perché tra le due forze politiche è vero che è calato un gelo siberiano ma le comunicazioni non si sono mai del tutto interrotte. Salvini ha più volte detto di essere disposto a ritornare a parlare appunto di un'alleanza Movimento 5 Stelle-Lega. Lo stesso Di Maio, per quanto sia stato duro con Salvini, non ha mai del tutto chiuso la porta all'ex alleato ma ovviamente questo presupporrebbe un rimpasto parecchio pesante della nuova compagine giallo-verde. Si tratterebbe di far saltare un sacco di test di ministri e di ruoli importanti. Il primo fra tutti probabilmente potrebbe essere o dovrebbe essere perlomeno Tria, il imposto da Mattarella, questo economista che non andava oltre quelli che erano i diktat di Bruxelles, un robottino che pensava solamente a Robaccia come stare dietro ai vari vincoli di bilancio senza andare ad irritare i burocrati che siedono a Bruxelles e per non parlare poi dei governi francesi e tedeschi che vedono di buon occhio solamente un governo italiano prono ai loro voleri. Quindi speriamo che qualora nascesse un nuovo governo giallo-verde Tria sia tra coloro che verrà segato, questo ovviamente è solamente un'ipotesi, anzi forse più un desiderio, ma ci sono tanti altri nomi che potrebbero saltare. Uno fra tutti sicuramente Giuseppe Conte, che non dovrebbe sicuramente essere per la seconda volta il presidente del Consiglio del governo giallo-verde, non ci dovrebbe essere alcun Conte bis, anzi alcuni parlano addirittura di una proposta politica che girerà intorno a Conte per attirare a sé il malcontento grillino qualora uscisse fuori la compagine PD Movimento 5 Stelle. Alcuni parlano addirittura di Salvino Di Di Maio, uno dei due che potrebbe saltare ed essere sacrificato sull'altare della rinnovata coesione giallo-verde. Insomma, sono tutte per ora solamente ipotesi. Quello che è certo è che però non può essere scattata l'ipotesi che potremmo ritrovarci a vedere un governo giallo-verde rinforzato rispetto al passato perché si sarà liberato di tutte quelle persone che poi magari hanno portato dei contrasti all'interno dell'Alleanza. Staremo a vedere. La seconda ipotesi, rimasta sul tavolo la peggiore in assoluto che insomma chiunque abbia un po' di buonsenso spera che non accada mai, è quella della nascita di questo mostro formato dal Partito Democratico Liberi Uguali e Movimento 5 Stelle, o meglio da quella parte di Movimento 5 Stelle che è disposta ad andare con il Partito Democratico. È un qualcosa che solamente a pensarci fa venire gli incubi. Voi immaginate il partito per antonomasia nemico degli interessi degli italiani, il Partito Democratico, il Partito della Francia, il Partito della Germania, il Partito di chiunque voglia strapparci via gli ultimi rimasugli di sovranità nazionale. Liberi uguali, quindi i boldrignani, quindi i petalosi, gli arcobalenati e dall'altra parte poi insieme a loro quella parte di Movimento 5 Stelle che si rispecchia ad esempio in uno come fico che facendo in questa maniera distruggerebbe qualsiasi reputazione, qualsiasi cosa di buono rimasta all'interno del Movimento 5 Stelle. L'ho detto più volte, questo sarebbe veramente la morte del Movimento. Io mi auguro che non accada mai. Diciamo che questo è un argomento che ho affrontato veramente in tanti altri video. Casomai potete vedere quello che ho pubblicato ieri perché parla proprio di questo. Però veramente a pensare che cosa potrebbe fare un simile governo c'è da rimanere veramente terrorizzati. Un governo che peraltro secondo me durerebbe pochissimo, durerebbe veramente pochi mesi, ma in quei pochi mesi farebbe delle cose devastanti. Immaginate dal punto di vista economico, come ha già detto Zingaretti, il quale sta facendo arrabbiare un po' i Renziani perché sembra che stia mettendo i bastoni tra le ruote a questa nuova alleanza col Movimento 5 Stelle. Tra i suoi cinque punti c'era la fedeltà assoluta all'Unione Europea, quindi significa piegarsi a 90, scusate l'immagine, di fronte a Bruxelles, Parigi e Berlino. Quindi assolutamente proni a qualsiasi diktat, a qualsiasi vincolo, a qualsiasi ordine che venga oltra Alpe. È una cosa veramente umiliante per l'Italia, ma è il modo con cui il Partito Democratico vede la politica europeista italiana, cioè al servizio di Berlino e di Parigi, della Merkel e di Macron, che d'altronde quest'ultimo sta attifando ovviamente per la nascita di questo governo PD Movimento 5 Stelle. Per non parlare poi della questione dell'immigrazione, porti non aperti, spalancati, veramente, cioè aperti 24 ore su 24 con la marina italiana che fa direttamente da taxi. A questo punto farebbero prima a costruire un ponte che va dalla Libia a Lampedusa, perché usare le navi, far entrare tutti dal primo all'ultimo. Immaginate una come la Cirinna che si occupi di famiglia, il partito di Bibiano, il partito che vuole distruggere la famiglia naturale, la famiglia tradizionale, che ha sotto di sé le politiche dedicate alle famiglie italiane. Cose veramente che fanno accapponare la pelle, gente come la Boschi, che magari potrebbe essere messa a gestire qualche banca, visto quanto è brava. Insomma, veramente, immaginate un governo formato da PD, liberi uguali, e quella parte di Movimento 5 Stelle pronta a fare questo suicidio, sarebbe ovviamente benedetto da Mattarella, benedetto da lo stesso Papa, che ovviamente tifa anche egli per una simile opzione. Sarebbe la cosa migliore in assoluto per Bruxelles, sarebbe la cosa migliore in assoluto per gruppi di potere come il Bilderberg, da cui sono usciti poi Renzi e Feltri del Fatto Quotidiano, e d'altronde entrambi stanno lavorando per questa unione PD Movimento 5 Stelle. Sarebbe il governo preferito dalle ONG, che potrebbero fare ciò che vogliono. Insomma, veramente, immaginate che cosa potrebbe uscire fuori, magari potrebbe unirsi anche una come Emma Bonino, portandosi appresso appunto l'applauso di George Soros. C'è veramente da rimanere, da fare dei brutti incubi. Ripeto, un governo del genere, per quanto possa durare poco, potrebbe in quel poco fare cose terrificanti, tra cui ad esempio lo Ius Soli, cioè la distruzione totale di qualsiasi valore della cittadinanza italiana in osseguo a quelle che sono le folli ideologie globaliste. Cioè, veramente, sono cose a cui non si vorrebbe nemmeno pensare, ma purtroppo questa opzione è sul tavolo e questa opzione in questo momento sembra anche la più accreditata. Per carità, sono tutte voci di sicuro, non c'è niente, però pare che due gruppi del PD e del Movimento 5 Stelle si siano incontrati ultimamente e la frase che è uscita fuori è nulla è insormontabile. Lo stesso Casaleggio Junior si è sentito con Zingaretti, a un certo punto sembrava che avesse chiuso la porta in faccia al segretario del Partito Democratico, invece a quanto pare continuano a sentirsi e a parlare tra di loro. È un momento parecchio pericoloso, perché se nascesse una cosa del genere sarebbe un disastro. Le due forze politiche, o meglio, il Movimento 5 Stelle sicuramente andrebbe a schiantarsi addosso un muro. Il Partito Democratico verrebbe odiato in eterno dalla popolazione italiana più di quanto lo sia adesso, ma d'altronde queste persone non rispondono al volere popolare, ma solamente a padroni che agiscono al di sopra dei voleri delle nazioni sovrane. E poi c'è la terza opzione, c'è quella del ritorno al voto. Ora, anche qui, di sicuro c'è poco. Quel poco di sicuro che c'è riguarda la Lega, cioè ovviamente il partito che ne gioverebbe di più sarebbe la Lega di Matteo Salvini, che secondo i sondaggi sta ancora intorno al 35-36%. Alcuni sondaggi parlano del 32%, altri invece del 38%, altri addirittura di una percentuale che supera il 40%. Anche qui, numeri. Ciò che è certo è che sicuramente sarebbe il partito che prenderebbe più voti. Ma in che modo poi si presenterebbe al governo? Perché da solo sarebbe quasi impossibile che prendesse tanti voti da poter governare da solo. Matteo Salvini a questo punto avrebbe bisogno di un'alleanza. Quella più naturale sarebbe con Fratelli d'Italia, che gli darebbe ancora più seggi, ancora più peso in Parlamento. Fino ad arrivare a un possibile allargamento a tutto il centrodestra, alla Forza Italia, probabilmente di Toti. Ma anche qui l'alleanza Lega-Fratelli d'Italia sarebbe ben diversa da un'alleanza Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia. Cioè, nell'ultimo caso avremo a che vedere con un governo di centrodestra che a mio avviso non potrebbe dare nulla di eccezionale a questo paese. Sarebbe un governo fondamentalmente europeista e liberista. Mentre invece già un governo che vede, per miracolo, solamente la Lega al comando potrebbe perlomeno porsi in maniera di gran lunga diversa nei confronti di Bruxelles. Fratelli d'Italia galleggia un po' tra le due posizioni, ma fondamentalmente ciò che non sappiamo è come appunto verrà impostata la politica di un governo del genere. A mio avviso, un governo totalmente di centrodestra non porterebbe nulla di eccezionale, di veramente innovativo a questo paese. Un governo invece di Lega e Fratelli d'Italia potrebbe fare qualcosa di interessante, almeno dal punto di vista dell'immigrazione. Dal punto di vista economico, per alcune personalità della Lega potrebbero avere più, come dire, più libertà di azione, ma per ora siamo solamente nel campo delle ipotesi. Così come è un'ipotesi, il cosa farà il Movimento 5 Stelle qualora si andasse al voto. L'ideale per me sarebbe che il Movimento 5 Stelle corresse ovviamente da solo e usasse questo voto anche per fare una profonda autocritica e capire cosa è andato storto e come quindi riacquistare la fiducia degli italiani. Questo ovviamente non sappiamo che cosa accadrà qualora si andasse a votare. E poi il Partito Democratico, signori, mettiamoci, come dire, l'anima in pace, il Partito Democratico prenderà comunque il suo bel 21, 22, 23%, perché c'è una parte degli italiani che o per interessi personali o per una profonda lobotomia continuerà a votare il Partito Democratico finché campa. Questo dobbiamo tenere a mente questo, per il Partito Democratico l'idea che sparisca, a mio avviso, ben lontano dal compiersi questa profezia o meglio questo sogno, questo desiderio. Quello che potrebbe succedere, casomai che il Partito Democratico si scinda da una parte tra i Renziani e dall'altra tra i Zingarettiani, chiamiamoli così, ma finché si tratterà di mettere da parte i dissensi per difendere le poltrone queste persone qui non faranno mai un passo del genere. E quindi, ripeto, queste sono le tre opzioni. Il ritorno del governo giallo-verde, il governo PD, Movimento 5 Stelle, Dio ce ne scampi, e il ritorno al voto che anche lì ci sono parecchie incognite sia su chi si presenterà al voto, come si presenterà al voto e soprattutto cosa farà una volta vinte le elezioni. Quello che è certo è che stiamo veramente attraversando un periodo parecchio, turbolento, sembra di vedere una serie TV, crisi di governo, una delle migliori serie TV degli ultimi anni. Comunque, scherzi a parte, quello che è certo è che l'Italia in questo momento sta al centro di uno scontro titanico di livello mondiale. L'Italia è ancora oggi il centro del mondo, gli unici che non lo sanno sono gli italiani perché vengono rimbecilliti 24 ore su 24 da una propaganda che ovviamente dipinge agli italiani l'Italia stessa come un paese da quattro soldi. Non è così, non è così, siamo veramente tirati da una parte e dall'altra. Purtroppo, non è ancora una questione di Italia sovrana contro il resto del mondo o contro tutti i suoi padroni, forse ci arriveremo col tempo, di certo è che dobbiamo cominciare a spezzare qualche catena perché se no a forza di essere tirati da una parte e dall'altra finiremo per essere dilaniati e questo non lo vuole nessuno. Vedremo insomma martedì che cosa succederà perché martedì sembra il limite massimo imposto da Mattarella, le opzioni sul tavolo ci sono, sono tre, fondamentalmente quelle principali, il resto ovviamente sono scommesse, ipotesi e brutti sogni.